Dopo il rapporto sessuale, l'uomo deposita circa 200 milioni di spermatozoi. Tutti iniziano a nuotare verso l'alto, sul sentiero per trovare l'ovulo. E di tutti i milioni che vengono depositati, in realtà solo tra i 300 e i 500 arrivano sul posto. Altri si stancano lungo la strada perché non è una corsa facile. E di questa quantità, quelli che riescono a raggiungere l'ovulo, solo uno fertilizza l'uovo. E in tal caso, il vincitore sei tu. C'hai mai pensato? Hai corso senza occhi e senza gambe e hai vinto. Hai fatto una gara impreparata e hai vinto. Hai corso senza aiuto e hai vinto. E allora, cosa ti fa pensare che perderai ora? Ora che hai occhi e gambe, ora che hai dei piani, visioni e sogni, non ti sei arreso il primo giorno. Quindi, non puoi arrenderti ora. Sarebbe un insulto al creatore. Non importa cosa stai passando ora, prendila come una sfida. E ricorda che hai vinto dall'utero. Non arrenderti mai.